Ciao a tutti, popolo del tubo e bentornati in un nuovo episodio della serie L'Antico Borgo qui su Farming Simulator 22 Allora, voi subito direte, ma questo è un 180-90, da dove sbuga il 180-90? Sbuga dal fatto che ho dovuto comprarlo in live perché il same che avevamo precedentemente comprato l'abbiamo dovuto rivendere perché purtroppo aveva un piccolo bug, era un po' buggato e alcuni carri, alcuni attrezzi non li attaccava dietro e perciò abbiamo dovuto vendere il Galaxy 170, abbiamo comprato il 180-90 che comunque a noi ci piace lo stesso e detto questo, giustamente ho parlato di live, dice quale live, come live, dove live e beh ragazzi venite a trovarmi in live tanti mi dicono quando torni in live su YouTube, ma io sto in live tutti i giorni su Twitch se vi fa piacere vedermi in live, venite a trovarmi su Twitch lo trovate in descrizione ragazzi, in descrizione addirittura se avete Prime potete abbonarvi gratis avete nessuna pubblicità, tantissimi vantaggi, lasciate Telegram riservate agli abbonati che volete di più dalla vita, mi aspetto su Twitch per quanto riguarda le live poi vi volevo anche ricordare che si può aiutare a sostenere anche questo canale con il tasto super grazie offrendomi un caffettino inoltre ci sono tutti i miei link di affiliazione Giants per acquistare Season Pass 2 eccetera eccetera e i miei social e tant'altra robetta utile andate a farvi un giro in descrizione perché trovate un botto di roba tra cui anche questa mappa tra l'altro molti mi chiedono ma la mappa che mappa è? che mappa è? basterebbe leggere le descrizioni dei canali però vabbè dopo io so polemico, so lamentoso, quindi lasciamo perdere allora ragazzi, la mod che vi voglio portare oggi è una mod ovviamente essendo morto il mod hub ufficiale, essendo Cimoria sono costretto come sapete ad attingere ad attingere, mi stava cadendo un dente ad attingere dai siti esterni e ieri dai siti esterni è uscito un bel pivot, un pacche di pivot visto che ho letto che molti di voi c'hanno proprio sta fissa di questi pivot a me non è che mi piacciono più di tanto però dico portiamo sto pivot, provamolo lo proviamo insieme, io ragazzi non so manco come funziona so che sono due o tre tipi di pivot diversi un po' più grandi, un po' più piccoli però vediamo un attimino visto che io qui nel gioco siamo a luglio e c'ho i campi di mais il campo di mais da fertilizzare credo che il pivot funzioni da fertilizzante credo, credo, così sulla carta e così lo andiamo a provare prima di provare il pivot però vi voglio far vedere la zona industriale come si è allargata guardate qua come si è allargata la zona industriale adesso invece porto perché il sindaco mi ha chiamato mi ha detto guarda che tutti quei lavori quei progetti sono andati a buon fine a buon fine, si si dice a buon fine come vedete ci sono due cancelli di entrata uno di qua, uno di là la zona è stata tutta recintata ovviamente perché la notte si chiude e come vedete qui c'è il frantoglio l'antico borgo qui c'era, se vi ricordate l'ultima volta c'era un cancelletto come vedete queste sono tutte cose che ho fatto in live ragazzi vedete, a non venire in live vi perdete un bel po' di cose questa era la zona vecchia diciamo e questa invece è tutta la parte nuova qua è stato costruito un super mega parcheggio per tutti ovviamente gli operai questo è lo zuccherificio che è stato costruito guardate che spettacolo lo zuccherificio e a fianco allo zuccherificio c'è anche un punto un punto di lavorazione delle patate qui si lavorano le patate perciò ragazzi adesso possiamo finalmente seminare andare a lavorare anche le barbabietole e le patate ovviamente come vedete c'è tutto lo spazio che vogliamo perché mi sono reso conto che la mappa ragazzi non ha il muro tu dirai tu dici Robby che è il muro il muro è quel muro invisibile che di solito si mette nelle mappe quando finiscono quindi il mapper a un certo punto mette un muro invisibile dove tu non puoi più andare invece qua il modder non l'ha fatto e come vedete noi abbiamo a disposizione l'infinito e oltre l'infinito e oltre perciò noi possiamo espandere la mappa fino a dove ci pare quindi quello che potrebbe sembrare sulla carta un bug una mancanza una cosa del genere in realtà è una cosa molto utile perché mi permette di espandere sta mappa come me pare quanto me pare e quando me pare comunque ritorniamo in farm e andiamo a vedere sti benedetti pivot innanzitutto io vorrei vedere se c'è la mod proprio perché vorrei vedere che cosa contiene sta mod quando l'andate a scaricare la mod richiede altri 2-3 mod ragazzi e attenzione leggete bene la descrizione richiede sicuramente la store delivery la workshop mobile e mi pare un'altra non mi ricordo eccola qua pivot londesley londesley lindesley 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 allora come vedete sono più pivot io mi prendo quello piccolo questa ha una sezione questa ha due sezioni questa ha tre sezioni questa ha quattro sezioni questa contiene 4.000 litri di fertilizzante liquido e di serbo ecco vedete si può dare anche col di serbo però ci avevo azzeccato più o meno era per fertilizzare i campi questa lavora fino a 69 69 metri questa 124 metri 180 metri 236 metri io credo io credo ragazzi credo questa è quella singola aspetta è singola doppio ma che che cambia ragazzi scusate mi pare tutti uguali a me forse si allungano non lo so vabbè io prendo quello piccolo innanzitutto ci fanno portare tutto qua però io non capisco bene come si trasporta sto coso cioè vabbè ho la super forza non ho problema me lo trasporto con la super forza però teoricamente allora feel the creation help guides cos'è sta cosa feel the creation help guides configuration rotation full turn tre quarti ah come lavora come lavora se volete che lavora tutto se lavora tre quarti un mezzo un quarto allora full turn fa un giro totale ehm per qua no vabbè li fanno fa full turn non ho ancora capito che è sto coso qui the the field creation help guides però io metto no allora l'affitto raga e lo affitto oh eccolo qua eccolo qua ah ci si sale sopra ci si sale sopra tipo la macchina è sbaglio? no però aspettate un attimo ehm right the rotation ok rotazione destra sinistra avvia motore ok non si muove ragazzi non si muove non si muove ragazzi mi dobbiamo mettere la super forza o non c'è la super forza aspetta eh no allora ragazzi il problema è che lo dovete lo dovete praticamente riuscire a non si muove manco dopo ragazzi non si muove manco con la super forza datemi un attimo praticamente lo dovete piazzare preciso con con la store con la store delivery cioè dovete cercare di capire eh grazie alla store delivery dovete cercare di capire vedete la super forza c'è è attivata dovete cercare di capire tramite la store delivery eh dove dove potrebbe spawnare sto coso quindi adesso io lo lo rivendo lo restituisco perché non si può vedere in mezzo alla strada allora lo mettiamo qua su sto campo qua quindi tramite la store delivery voi dovete essere bravi a immaginare dove sto coso vi spawnerà allora andiamo un attimino a metterlo poi io non so esperto di pivò eh me posso pure sbagliare potreste anche di Robby ma guarda che non si usa così Robby che non si usa così non va bene così allora right eh no dobbiamo andare dobbiamo andare no eh no a sinistra a sinistra deve andare ok vediamo un attimo vediamo un attimo no a destra allora eh sì ok a destra deve andare accendi il ruolatrice oh vedete vedete ci abbiamo ci abbiamo più o meno ci abbiamo più o meno la visuale di come di come irriga se può dire irriga quindi praticamente questo alla fine è stato abbastanza cortazzo è stato abbastanza cortazzo quindi ne prendiamo vabbè ne prendiamo uno e poi lo spostiamo lo spostiamo ma non si può spostare quello è il problema che non si può spostare ragazzi cioè non ho ben capito come si sposta non ho ben capito ragazzi come si sposta io sto sto pivò come vedete c'ha varie inquadrature questa questa e questa non ho ben capito se se ma non credo che si sposti eh questo ragazzi questo ragazzi o si tira su con con i muletti o qualcosa del genere ma non credo proprio non credo proprio che sto coso si tira su con i muletti comunque adesso vado a prendere il fertilizzante liquido così lo carichiamo ce l'ho in farm il fertilizzante liquido e vediamo un po' come funziona ovviamente io vi mostro solo la mod vi mostro un attimino le funzionalità poi sta se siete quelli precisini ma no non si usa così no se usa cosa ha poi voi nelle vostre partite giocate come vi pare io vi faccio vedere la mod vi spiego un attimino alle grandi linee come funziona e poi ovviamente vedete voi fate vobbis io non sono un agricoltore non ho mai visto un pivò in vita mia quindi prendete con benevolenza quello che sto facendo senza troppo citofonismo allora eh vediamo un attimino ok lo porto qua oh mamma mia che precisione adesso se io salgo dentro faccio ricarica mamma mia me sta trema tutto me sta trema tutto lui ricarica lui si ricarica di fertilizzante perfetto lui si ricarica di fertilizzante ne vado a prendere un altro ne ho due ne vado a prendere un altro quindi si ricarica normalmente come un attrezzo col tasto R mamma mia mamma mia ragazzi che ansietta che mi mette questo pivò mi mette l'ansietta che voi nemmeno immaginate ecco fatto però vedete chi segue Robby Mello è sempre in formatello questa mod la trovate sui siti esterni la trovate su King Mod Mod AWS insomma tutti i più famosi siti esterni dei mod non vi sarà difficile trovarla basta scriverte pivot e la trovate allora perfetto risaliamo a ricarichiamo adesso dovrei riuscire ad accendere il tutto allora accendi irroratrice perfetto lui dice non è accesso questo terreno perché giustamente sta spruzzando sta spruzzando giustamente dove non dovrebbe allora adesso io devo vedere devo capire come fa lei a ruota right rotation accendi accendi non è accesso a questo terreno è grazie al cane non è mio aspettate aspettate lo compro so so talmente so talmente disperato che ho deciso di comprarlo dove sta lo compro dove sta sto maledetto terreno dove sto io chi so io perché esisto eccolo guarda non c'hai sordi non ho denaro sufficiente me faccio un debito me faccio un debito e me lo compro me faccio un debito e me lo compro basta il numero le scatolette al basso ventre ok no non posso fare debito porca di quella miseriaccia allora ragazzi ho ricomprato tutto rifatto tutto me so spostato ho chiamato la banca me so fatto ad altri soldi perché il banchiere si chiama gruger è un mio amico e quindi l'ho chiamato gli ho detto senti presti questi due sordi sto a cercare fa un video esplicativo su farming desti pivò maledetti e lui mi ha detto va bene va bene va bene ragazzi non funziona bene però eh non funziona affatto bene sto coso non funziona affatto bene scusate che ho sbagliato ho sbagliato il verso ed è qua che devi camminare ed è qua che devi camminare aspetta oh sta camminando sta camminando ragazzi sta camminando zitti tutti mo c'è la pianta lì però de mezzo vabbè chi se ne frega accendi sto pivò accendi sto pivò ok lui dice che per far un giro completo eh ci mette tipo mezz'ora più più è grosso e più ci mette di più sta camminando sta camminando o si è bloccato per colpa degli alberi mica ho capito io se sta camminando non mi pare proprio che sta camminando io io l'albero lo cancello lo cancello vediamo se cammina ma non cammina lo stesso ragazzi ragazzi non cammina lo stesso e nemmeno si prende in mano sto coso nemmeno si sposta aspetta super forza vediamo no non si prende pure con la super forza è troppo pesante è incredibile non si sposta ragazzi non si sposta non capisco il motivo per cui non si sposta non non sta funzionando bene sta vedete de qua funziona de qua funziona de qua si sposta è dalla parte di là che non si sposta adesso l'ho montato al contrario ragazzi l'ho montato al contrario e pare che adesso vada pare che adesso vada il problema sono sti maledetti alberi che hanno messo a bordo campo ragazzi per fare i pivot non ci servono gli alberi maledetti alberi maledetti porca miseria quando mettono gli alberi maledetti attorno ai campi modder malediziona quando mettete sti alberi maledetti intorno ai campi non mettete gli alberi maledetti intorno ai campi che danno fastidio ve l'avrò detto 7 miliardi di volte ve l'avrò detto 7 miliardi di volte ecco ragazzi ha scavallato ha scavallato ragazzi ha scavallato le piante e adesso e adesso ci siamo adesso è partito sta funzionando ovviamente io una roba del genere non la userei mai cioè nemmeno se la mettono su farming e de default una roba del genere una menata del genere per dare un po' di fertilizzante ma per carità però per gli amanti ragazzi se siete amanti se amate questa roba qua se vi piace beh guardate ce l'abbiamo fatta dopo 40 minuti di video ce l'abbiamo fatta ad accendere i nostri pivot eccoli qua forse questa è l'inquadratura migliore non lo so se è questa o quella là l'inquadratura migliore però finalmente ce l'abbiamo fatta guardate 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 oh fatemi godere un attimo st'irrigazione perché giustamente dopo tutte le fatiche che abbiamo fatto per farla funzionare almeno ce la godiamo adesso andiamo pure a fertilizzare il campo del vicino ce l'abbiamo fatta comunque ragazzi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del pivot se a voi piace in particolar modo questa mod se è un tipo di irrigazione di cosa che a voi piace secondo me su farming visto che per il momento fertilizza e basta non c'è l'umidità non c'è niente è solo una perdita enorme di tempo ma comunque ripeto se vi piace eccola qua ve la segnalo insomma scrivete scrivete nei commenti tutto quello che riguarda il pivot se sapevate di questa mod se ne siete venuti a conoscenza adesso grazie a me insomma scrivete scrivete commentate io ringrazio gli amici abbonati anima vita e cuore del canale consentono al canale di sostenere di andare avanti portare tutti questi contenuti mi raccomando lasciate il mi piacetto per il pivot almeno ragazzi per tutta la fatica per tutto lo sforzo che ho fatto per sta roba un bel like non mi raccomando amici vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao